Salve a tutti gente, bentornati a Scour Swords Interrompiamo la storia per un breve momento, io e Zero Per fare qualcos'altro, per completare il gioco al 100% di per sé Sì, Zelda e Ghirain possono farsi una partita briscola Antica briscola Sì Dunque, noi siamo qua per la boss rush Esatto Che è praticamente l'ultima cosa extra che rimane nel gioco Da fare E ce la propone lui, il drago del tuono, Ranel Per qualche motivo Yes E non lo scopri mai se non ti viene in mente di tornare da lui Già Gli parliamo allora, cosa dice? Link, hai fatto bene a venire, è bello vederti Bene allora, che ne dici di divertirci un po'? O forse un impavido guerriero come te non ha tempo per queste cose Che ne dici di qualcosa che comprenda tutte le fatiche e le prove affrontate finora Il passato è la chiave per comprendere il futuro Apprendi dalle tue passate esperienze Questo è il mio consiglio Dunque, Link Va bene Sembra che dica Do you Do you La risposta che mi aspettavo da un eroe come te Dunque, se me lo concedi Darò un'occhiata alle tue esperienze passate Dunque, hai avuto modo di fare notevole esperienze Hai vinto battaglie contro temibili mostri E anche le prove dell'oltremondo sono state ostacoli ostici La decisione è presa Dovrai affrontare di nuovo una delle due sfide Quale scegli? La decisione spetta a te Beh, a noi interessa la battaglia Ma la prova in pratica vi fa rifare le prove dell'oltremondo Se avete davvero voglia di rifarle O avete davvero bisogno di magatame oscure Perché è l'unico posto dove ritrovarle Esatto Non che qualcuno abbia veramente voglia di rifare quella lì Let's battle Battaglia E una battaglia sia Questo è lo spirito giusto Con battaglia intendo che dovrai scegliere di combattere Con uno degli avversari più temibili Tra quelli che hai incontrato finora Grazie al mio potere Io farò rivivere Lo farò rivivere affinché tu possa affrontarlo Come hai già fatto in passato Noti la posizione del test Testo Cosa? È tipo un po' in basso il testo Ma sono lì No? Boh Vinci e riceverai un premio Tuttavia Devi prestare molta attenzione Se perdi è la fine Non tornerai a casa Te la senti? Eh I guess Suonava come una minaccia Così parla un vero guerriero Bene Da dove cominciamo? Cioè il vero guerriero che ha lasciato la dea a morire Pensa al momento Pensa al momento in cui nel corso delle tue peripezie Hai incontrato il nemico E vorresti sfidare di nuovo Allora Spieghi da Zero cosa facciamo Essenzialmente ti chiede Da quale parte del gioco vuoi affrontare i boss E visto che è Lethal Faremo praticamente gli stessi Beh non gli stessi boss Ma inizieremo dallo stesso punto O almeno per queste prime prove In teoria Avevamo deciso di fare delle sfide Ma Abbiamo deciso che le prime due Che sono essenzialmente per prendere Il cento per cento Ovvero le ultime due cose extra che rimangono Non saranno delle sfide Faremo una terza sfida Cioè faremo una terza Bass Rush Dove affronteremo tutti i boss Così sarà più equo E avremo gli stessi Beh dovremo affrontare tutti i boss appunto Quindi da dove vuoi iniziare Lethal Dall'inizio Dal mezzo O vuoi lasciare perdere O alla fine Inoltre un ultimo avviso Questo video probabilmente sarà un po' lunghino Perché non ho intenzione di rimuovere Diciamo le prime sfide E inoltre Diciamo che l'ultimo video extra Potete tranquillamente saltarlo Se non volete guardarlo Tanto non fa parte della storia E siamo solo qui per finire le ultime Due cose extra che rimangono Quindi decidi te il primo Ah non so Visto che dobbiamo farne altre dopo Non è meglio magari scegliere alla fine Così facciamo pratica contro quelli difficili Ok E alla fine si Vediamo le battaglie più recenti L'unica battaglia degna di essere chiamata tale È avvenuta contro il recluso Oh god No Anche a te l'ha dato? Sì Fuck Ah ho dimenticato di dirti una cosa In battaglia potrai usare solo l'equipaggiamento che possedevi al tempo E nessun oggetto dalla tua borsa Anche se l'appersario è formidabile Lo hai già combattuto in passato Nessun vantaggio Tuttavia ritengo che lasciarti combattere senza nulla sia ingiusto Potrei portare con te il tuo attuale scudo Se ne hai uno Allora sei a posto con l'equipaggiamento? Vuoi che ti dia inizio la battaglia? Eh dai Sì dai Let's go Preparati psicologicamente Mi spiace di aver scelto questo Fucking recluso Ma quindi è solo il recluso? Forse? No non credo Credo che devi affrontare È perché alla fine Non so magari aggiungevano In modalità eroica più roba Non lo so Tra l'altro lui ha detto Riporto in vita dei boss Per farti fare delle prove Quindi ha risuscitato il recluso Sì In un certo senso E ha creato E ha creato anche Bado Ah sai cosa Bado? Ah fai pure Così certo di me Tanto Non è una sui Quindi facciamo con Carlo Che è già cominciato male Guarda un po' te Mi ha azzeccato il primo colpo Ora Cioè La prima Serie di colpi Yeah Io so volare Fa questo boss Quando vuoi Bado Vabbè ci mette un po' A ricaricare la bomba gigante Non puoi Comer pretese E questo è un Bado farlocco Tra l'altro Come un Bado Il recluso si sta avvicinando Bado Bado il recluso si sta avvicinando You fuck Certo che potevano togliere il testo Bado Ok ci siamo Eh ma non c'è tensione Oh fuck Ho perso Hai perso? Yes È andata Ho mancato l'ultima bomba C'è l'unica bomba che mi è data Ci ho messo tre ore Bado Fuck you Bado Ti odio Wow Cominciamo bene Game over Vuoi continuare l'avventura? Si Fuck me Quindi fai lo stesso O scegli qualcos'altro Faccio lo stesso Non fa differenza Ma è bullshit Perché tipo ci ho messo tre ore Bado E poi non Mi sarei dovuto muovere con la catapulta Che non ho fatto Io mi son dovuto Ah ok Non ti sei mosso Si Chiaramente taglio il pezzo Cioè se uno di noi riesce Il primo che finisce Essenzialmente taglio il pezzo Si 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 Che è che doveva perdere contro il recluso Lethal Ripreschami un attimo la memoria Non lo so Qualcuno No adesso Adesso lo distruggo sto fucker Thank you shit Fuck you recluso Faccio la super strategy Se riesco Oh fuck Non ce l'ho fatta C'ero quasi Per la super strategy Salirgli Salirgli sopra E poi impiantargli subito la colonna Senza usare base What? Oh Oh Questo non lo sapevo Cosa? Se manchi il recluso Ti dà tipo una spinta d'aria E vai implanata sopra di lui Tipo gli cadi sopra Ah si? Con l'ultimo colpo di catapulta Sai? Ah Lo Visto che sono arrivato in cima In anticipo Mi ha sparato Sopra di lui E Mi ha dato tipo Una spinta di vento E poi Era come Era in caduta libera Su di lui Quindi anche se lo manchi Non è troppo male Che falso senso di Tensione Io ancora non ho Non gli ho dato un colpo Oh E ti dai premi Quando batti i nemici La prima volta In ogni caso Che ne diresti In un'altra battaglia Battaglia Bla 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 Scudo resistentissimo Già Sai che l'ho fatto Troppo presto Vero? Continuiamo Oh Fuck Mi Da una battaglia All'altra Sarò io Scegliere il tuo prossimo Avversario Ok Quindi Scegliamo solo Il primo Sì Il mio prossimo È Ghirahim 2 Quindi da adesso in avanti Io e Zero Avremo probabilmente Avversari diversi A meno che non sono predefiniti Per qualche strano motivo A meno che non rimane Zero Al recluso Forever Perché La sta cagando In tutti i modi possibili E immaginabili Tanto adesso non conta Quando conterà Già Quando conterà Sono una bestia Ma Per ora Per ora no Per ora sto parlando Basta I'm losing everything C'è da dire che Abbiamo la spada suprema Quindi i boss dureranno Un pochino meno Del solito Perché la spada è potente E hanno la stessa vita Che avevano La prima volta Sì Meno recluso A parte il recluso E quelli che vanno a colpi Se ce ne sono Uh Ma magari avevo la catapulta Già pronta Solo che non l'avevo vista No perché ti dice Ehi Magari l'ho cagata e basta Oh shit Oh è vero che devo Voilà E adesso salire Finchè non arriviamo Abbata Mi stanno cadendo le cuffie Come ti stanno cadendo le cuffie Le cuffie Gli earbud Mi stanno cadendo fuori dall'orecchio Visto che è pratica Magari faccio pausa Per rimettermi Ok finito Subito un po' tanti danni Perché non mi ricordavo Come schivare un suo attacco Ma fa niente Prima volta Ok Sono andato da l'altro sbagliato In teoria adesso andiamo solo fino al quarto Mi pare Sì solo fino al quarto Ma la musica fa sempre più intenso Fuck you Ok Sono dieci in totale Zero comunque Non dodici Dieci? Sì Ah recluso again Nice Fuck you Forse meno Vabbè Il secondo Sì ci sono Ce ne sono altri Eroica Che arriva a dodici Sì sì Ma per noi sono dieci in totale Per noi sono dieci Notevole Ah non lo so in realtà Tre minuti e 41 per il recluso Non è Non è un buon tempo Ci ho messo tre minuti netti Tipo Zero 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 Ecco ti 50 rubie In ogni caso zero Altra battaglia Comunque sì gente Per chi se lo stesse chiedendo I tre reclusi contano come battaglie separate Purtroppo Già Con il primo recluso che ci metti Mezzo minuto Anche a me ha dato Adatto Girain Ah sì Due Sì Wow Holy shit Girain Odio questa parte La parte dove ti prende la spada Wow Ma l'ha presa Al volo Sì Uno No please Ah Ok Mi pare che adesso ha due spada Come per dire che è più difficile La nuova spada Vabbè Lo è Se gli pari un colpo Ne ha un altro pronto Come per me Girain Il secondo è il più facile Penso No vabbè Il secondo è il più difficile da perdere Maybe Non gli ho preso il piede A chi? A Girain Oh shit Oh Finito Sì tipo Se reagisco più in fretta Riesco anche a battere in fretta Col game Non so perché Nel tempio Oh my god Ok Meno di due minuti Adesso è già al quarto? No Terzo Terzo Ho paura che Rischio di perdere Da questo recluso Ok Vediamo cosa Vediamo cosa dà a me Adesso Oh man Oh boy I'm ready for recluso Number two Oh my god Mi sta succedendo Ti ha fatto recluso number two? Sì Mi ha fatto recluso Wow Quindi non è random? No è random Solo che Non ci sono chissà quanti boss Perché noi abbiamo fatto alla fine E immagino che prenda solo Ah perché li fa tutti quelli alla fine? Immagino Oh my god Link tu devi per forza rotolare Ok Abbattuto Ci ho messo quattro minuti Troppo Io sono a un minuto Ancora non gli ho dato un buon colpo L'ho sbagliato Due volte a saltargli sopra Però non ero comunque in pericolo Penso che È meno pericoloso del primo Perché il primo Scivola ogni volta Fa la Sì La cosa Tranquillo Bado Penso di riuscire a senso Ho fatto un riposino Andiamo a impicchiare Let's go Ok Frammento di cuore Che è quello che vogliamo E chi è? Prossimo Oh È arrivato Zero Chi è arrivato Dopo il giro? Un polpo Oh 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 my god, c'ero quasi Veloce che lì Atticch Oh my god Oh my god Oh my god All right All right Oh my god Oh my god Spero che la boss rush non bada così Perché tre minuti per so cosa È tantissimo Mi ha spinto giù Non voglio crederci Non so se riesco Dovresti Dovrei ma Sto asshole mi ha buttato giù due volte Ok Link Stavolta estrae la spada immediatamente Voglio vedere chi sei Ok I think I'm gonna lose Sei perdo di nuovo man Holy shit Ma poi sei in pericolo Sì sono in pericolo Ho mancato di nuovo il recluso Ok Mi sa che ho perso Ho un'ultima chance E se manco questo ho perso Quattro minuti e venti Cosa sta accadendo? Io sto tipo Sono il cecchino dell'anno In modo molto ironico Bado let's go Let's go Bado Si è girato Oh my god I'm gonna lose I'm gonna lose Perdo Mi sa che perdo Non perdo 3-0 Come on Bado 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 Fuck it Ok no niente Ok tak ho perso Si ho perso What the fuck Ho perso Ho perso Ok ultima chance Hai perso Beh si Che è successo Niente tipo L'ho mancato 70 volte Saltando gli ingroppi Si Si I'm done Ho perso Holy shit Il recluso man Si Yes Vuoi continuare? Si Oh man Mi sa che ci metterò un po' più io Del solito Battaglia Controlla intanto la sella registrazione Ti sta andando tutto bene Si si Ok Ho finito Ho battuto il quarto boss Tranquillo Leto Quando conterà Già No ma qui sono io che la sto cagando malissimo Ma tipo tanto Guys Ho vinto Un punto Un punto Come si dice Simbolico Ben fatto Ancora una volta Un'eccellente battaglia Il tempo è impiegato per sconfiggere Meduclope si chiama Aspetta un momento Poiché è la prima volta che sconfiggi questo nemico per il mio solazzo Bla bla Voilà Ti fermi ora Riceverai come premio un frammento di cuore Però con la prossima vittoria Che ne pensi Desideri continuare? No Molto bene Non c'è bisogno di strafare? Quando muori Beh Muori Hai comunque superato te stesso Come promesso Ecco a te Yeah E signori e signori Questo è L'ultimo frammento di cuore Adesso taglierò tutta la mia patetica Tutto il patetico schifo Che sto facendo Se vuoi Vabbè che ci hai messo meno di me con Ghirain penso Non importa Lethal Stai avendo solo problemi con i reclusi Che Mi sta distruggendo Non avrei mai dovuto permetterti di fare pratica Now I'm fucked Bene dopo quell'imbarazzante momento di Zero E Lethal che effettivamente finisce il cosa Io ho dovuto rifarlo due volte A fucking suck Let's go E' ora di andare a prendere lo scudo Battaglia Oh shit Oh Io ho scelto prova Un attimo No Partiamo ancora da Con Vuoi partire ancora dalla fine? Guardate Decidite stavolta Perché dobbiamo affrontarli quasi tutti 8 su 10 Sì partiamo di nuovo dalla fine Mi va bene Sarà ancora il recluso penso Mi va benissimo E' proprio per quello che voglio partire dalla fine Alla fine allora Let's go Non ho avuto ancora abbastanza reclusi nella mia vita Let's go Sì La cosa I suck Che è successo? No niente Non hai appena iniziato? Cosa può essere successo? Ma tipo Gli sei andato sotto i piedi Sono triste Per cosa? Perché Sono triste Ok Ho dovuto rifare la prova di una volta Ecco perché sono triste Fax tu recluso Beh Io ho fatto lo stesso errore dell'altra volta Ossia Gli sono arrivato sopra Però Sono riuscito Non sono riuscito a piantargli il coso in testa tre volte Perché sono scemo Posso in teoria Sì che posso Non devo neanche usare qua Io ci ho provato ma mi scuote sempre giù Poi boh se lo fai bene probabilmente no Oh my god Stavolta la perdo io a zero Baboom Penso sia più lento farlo così No penso sia più veloce Tra l'altro non ha un cacchio di senso Perché io l'ho fatto senso usare la Bado pulta Bado dovrebbe ancora avere una bomba sulla Bado pulta E non ce l'ha Non ce l'ha? No Vabbè attenzione Fuck you Bado Oh my god Zero mi sa che perdo Cioè a dire il vero no Perché non Perché è ancora Devo ancora Mettiantargielo la prima volta Lui va lento all'inizio Sì una volta che gli ha la pianzi la prima volta È lì che inizia la vera cosa Oddio Devo andare da questa parte Ok ho scoperto che se lo manchi non è un così grosso problema Sei ancora del tempo per reagire E se lo manchi in che modo? Se lo manchi Guardate i spari Quella Bado pulta Per fortuna non è capitato Non è quello che avevamo detto prima Sì sì Ci tenevo a Fuck you Precuso Un minuto e trenta d'oro Molto meglio Holish Non so cos'era la roba che ho fatto la prima volta Non voglio saperlo Non mi interessa Tipo schifo Ecco cosa ho fatto Dammi roba facile Per qualche motivo Bado ce l'aveva pronta istantaneamente Per me la bomba Anche se l'ho usata per paralizzare il recluso Prima di saltargli sopra Quindi boh No ma a me è la terza È l'ultimo colpo Che intendevo Ma l'ultimo sei tu Sì Ma io non l'ho usata Per Per paralizzarlo Io ho usato il vento per salire Oh ha preso Ha preso lo scudo Oh shit Fatti sotto Le danno Fuck Ha preso lo scudo No non lo scudo Ah ok Mi ha dato il primo Ghirain Ghirain Per favore Allontanati un attimo Ok Ok Col primo Ghirain Se si è abbastanza veloce Ci si mette niente Ho già messo 18 secondi La prima volta Cioè Quando ho fatto off stream Perché Chiaramente Anche io ci ho messo 18 secondi La prima volta Era più 18 ore Che 18 secondi Ma vabbè Come salgo Posso fare il giro? Il gioco sta prendendo Si sta prendendo gioco di me Ha una pietà assurda Adesso mi sta dando Tutta la roba facile Sì continuando Let's go Beh vediamo Vediamo chi mi da adesso L'ho battuto Ci ho messo un po' Ma almeno l'ho battuto Questo è Recluso number one Sì tipo Adesso mi sta dando Tutta la roba facile Ha capito Che faccio schifo Io ricordo Una modalità In cui puoi scegliere Che boss affrontare Quando finisci Che ti dice Se vuoi Puoi scegliere Non hai battuto Il tuo record Fuck you Ma hai potuto Vediamo Chi mi da Come numero due Vedè Mi domanda Se continuo a cadere Il recluso Credo che sia il primo Non ha le braccia Quindi sì Recluso number one Sì Continui a cadere Ok Beh Ho imparato una cosa nuova oggi Che durante la cazz Continui a cadere Vabbè Recluso numero uno È abbastanza facile Perché non ti scuote Di dosso Quando gli sali In groppo Beh Se gli stai troppo In groppo Penso di sì Sì Se stai mezz'ora In groppo Magari sì Ti fermi lì No Continui 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 pure Che fuck Qui se non sbaglio C'è Ah ecco cosa Intendevi per Continui a cadere Anche Che fuck Yes Mi sono visto Nella cazzina Link lo stavo Guardando Mentre cadeva Man Voilà Un minuto E ventinove La prima volta Ci ho messo Due minuti e trentadine Wow Per qual Per chi Prima ricluso Sì adesso sto migliorando Tutti Sì non so Cos'era Cos'è successo Prima Non so dirti La realtà Tipo ero Sono andato in tilt Vabbè Se c'è qualcuno Che può capirti Sono io Fucked up everything Non azzeccavo Una cosa Che fosse una La verità È che ho attivato Cheat adesso Che ne pensi Di continuare Yes Continuo Continuo Che non arriviamo Allo scudo Si continua Baby Finito Un minuto e 41 Dai Tu quanta ci hai messo? Più o meno Sono minuto e trentadue Tipo Allora Ok Giraim 2 Ok Dai dammi il terzo recluso Così facciamo I tre reclusi Subito E passa la paura Come si suol dire Oh fuck Oh fuck E' un minuto e uno Do it Do it Distruggila Yes Revenge Probabilmente non riesco in 18 secondi come te Eh ma Battaglia numero 5 Battaglia numero 5 No ho dimenticato che bisogna No ho dimenticato che bisogna Ft aumenta No ho dimenticato che bisogna Ft aumenta Perché io Tipo riesco a colpirlo solo due volte Certe volte Con la spada Quando lo stordisco Sì? Sì Ci ho messo Giraim 2 Lui è andato fuori di testa da me Cioè Ha usato la stessa cosa Ha fatto la stessa cosa tipo 60 volte di fila L'ho distrutto in un attimo Ok Allora prossima sfida Numero 6 Altri 3 boss Oh wow Mi ha dato lui? Serio? Ok Stavolta però ti distruggo in un attimo Perché l'ultima volta Oh fuck Come stavo dicendo What? Oh shit Oh shit Eh 1 minuto e 24 Per via in due E ho perso Tanti cuori Comunque Quanto ti dura sta chela? Come on Oh my god Oh cutie Occhio di fuoco Oh wow Puuu Io ricordavo che si partisse senza bomba per qualche motivo contro occhio di fuoco Parti con le bombe che hai Sì sì Parti con l'inventario che hai No Penso che Beh io sono partito con 6 bombe letto Ah ok That's bullshit Perché That's cheating Ok Desideri continuare? Yes Numero 7 Due boss Sì ho perso la voglia di vivere 0 Ah sì? Sì Why? Beh perché a te adesso stai tipo andando benissimo Quindi non ho chance nella sfida effettiva Vabbè ma la prima volta l'ha dato dovevi vedermi Sì la prima volta Ma adesso è finita la mia chance No non è ancora finita C'ho messo un minuto e ventuno per occhio di fuoco Come on Voilà Così si dovrebbe fare recluso 2 No non è vero Così si dovrebbe fare in fretta Ecco Perché in teoria recluso 2 Se non fai abbastanza in fretta lui inizia a salire Ecco Inizia ad aggrapparsi Invece così Essenzialmente hai due colpi gratuiti Cioè glielo puoi impiantare due volte facilmente Ma è difficile da fare E non so se lo farò durante la sfida Perché non voglio filare e perdere tempo L'ho preso Numero 6 Oh scorpione Ok L'altro non dovete usarla Bada punta Potete anche semplicemente spaccargli le mani Se volete Se volete Ah lì Link Link Ok Affondo Vendenti verticali Link Non affondi Non Non robe strane A Più Ti vuoi fermare recluso? Invece ho messo un po' a raffiola. Bene, adesso abbiamo un Bado che ci facilita tutto e ci rende la vita più semplice. C'è una cosa di cui bisogna stare attenti a questa sfida, perché adesso non ci sto facendo caso, però i cuori sono importanti, bisogna darci un'occhiata ogni tanto. Perché non recuperi la vita durante le boss battle, sono tutte una dopo l'altro e non... Oh, shit, è vero. Ok, Scorpione è stato facile, ma mi ucciderà nella prova effettiva. A me Scorpione è rimasto fermo e si è fatto colpire tre volte di fila nell'occhio e è morto subito. A caso. Solo con te li fanno queste cose. Tipo, credo di averlo fatto... è perché era contro una parete. Ma comunque dovrebbe scavare. Desiri continuare? Yes. Ultimo boss, vediamo chi mi dà. Non darmi scimitarra, man. Please. Perché ci metto tanto da affrontare. Ok, lui va bene. Please no, please no. Off. Me do cloppe, again. Anche a me. Tanto così che posso deprimermi perché te lo finirei tre ore prima. Anche se l'abbiamo iniziato allo stesso momento. Non è tanto. Non è tanto. Oh, shit. Anche se l'abbiamo citato. Penso quelle che gli rimbalzano addosso In realtà qui se hai l'inventario pieno di frecce Se hai l'inventario pieno di frecce puoi usare le frecce per distruggire i tentacoli più in fretta Io non voglio svegarle perché già ne ho poche e poi mi servono per effettiva prova Cos'è? Gli ho tagliato uno dei capelli? Wow, nice Forse non dovrei Comunque se li distruggi con le frecce ti danno indietro frecce quindi fallo Non lo faccio con le frecce perché con lo disco di luce è più in fretta Cioè la prima battaglia contro le due è più in fretta a usare le frecce Ma quando hai il disco di luce della spada suprema è più facile quello perché... Io lo faccio comunque con le frecce E puoi prendere più di uno Quanto è mai che cerchi di insegnare qualcosa da zero? Mi metto sempre su bene Ma non è vero Shedling col pesce Ok, seconda falla No, è che col disco di luce puoi prenderne... Cioè, puoi... Penso che fai più fretta con l'arco comunque Ma io non voglio sprecare le frecce Sono utili Ah, Link, quando hai messo a dire Ah, poi c'è la felin fretta... Ma ne teni che farò così www.battuto Visto? C'è un resto di maniera? Eh vabbè, ho iniziato un attimino prima No, ho iniziato io un attimino prima Ho iniziato io prima di te Eh vabbè, ho visto Ancora uno penso, dove ci siamo Amen Spero che non sia recluso il mio ultimo Please no, please no Please no Oh, beh, è malgare Non so se è meglio Non dovrei morire Almeno Attento che se ti prende con una di quelle scimitarre ti fa un fracasso di danni Vabbè scimitarre Boh, cos'è? Tre cuori, quattro? Ti fermi ora e riceverai una scuola resistentissima Desideri continuare? No Eh, ho tenuto lo scudo Helia Yes Questo è lo scudo migliore del gioco Non si rompe È bullshit che sia resistentissimo, by the way È resistentissimo as fuck È immune al tuono Doesn't give a shit about anything Au E sai una cosa? Vado a prenderla Ora che abbiamo anche lo scudo Helia I quari al massimo Manca l'ultima boss rush da fare Che è quella In cui batteremo tutti i boss disponibili Pre-eroica Perché nell'eroica si sbloccano dei boss Ma Quelli li escludiamo Anche perché non ci li fa affrontare Quindi in ogni caso E niente Questa sarà l'ultima sfida del gioco Are you ready, Letta? Sei pronto per l'ultima fucking sfida del gioco? Sono pronto Sono pronto Perché Sei già in dialogo con lui e te? Sì, sì, sono in dialogo Sono nella selezione Inizio dalla fine perché Fuck il recluso E siamo d'accordo entrambi su questo Fuck il recluso Hai già fatto alla fine? No, non ho ancora cliccato sulla fine Ok Tu hai già cliccato? No Perché penso che inizio cliccando alla fine Ok Sì, come vuoi Ok Tieni il cursore alla fine Sì, è lì Non per sbaglio Ok Tanto non fa differenza in realtà Quindi Siamo pronti Andiamo Oh man, l'ultima sfida Oh man Ok 3 2 1 Via Skip tutto Testo, yes, testo Skip tutto il testo Oh shit Hai fatto no? No, 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 ho fatto sì Forse dovevamo iniziare dal sì Sarebbe Probabilmente non avrebbe senso No, skippare il testo è anche una qualità importante Senti, con iniziare dalla fine ti fanno iniziare direttamente col recluso Beh, il terzo recluso Non so se è il più difficile ma ti fanno iniziare con lui Direi che è difficile Lo definire Diciamo non è difficile batterlo ma ci sono Visto che può darti insta game over io lo considererei difficile Ok, ho mancato il primo Uff, io no È tipo la prima volta Plolest Run signori Eccola Sono pronto Non l'hai aggiunta nel video No, non l'ho aggiunta Non l'ho aggiunta Letta ha presupposto che sarebbe stata una flawless run per me Ma mi sa che ha sbagliato tutto In realtà l'ha fatto di proposito Chiaramente Per Nell'ultima sfida Lo faccio di proposito Perché mi gira Ah, qui però posso cittare Se sono abbastanza in fretta Se sono abbastanza in fretta Sì, Zero Se sei abbastanza in fretta Come on Ok È ora di cittare Cheating Zero Non dovresti usare la badapulta Sì Ok Vabbè, cheating Metodo alternativo Sì Poi non so neanche se è più veloce in realtà Quindi cioè Non so neanche Quale dei due metri è più veloce Credo non faccia un granché di differenza Largo Ok E ora che facciamo Sali fin qui, Zero La pizza Arrivo, vado Well Mi sa che ho perso, Zero Hai già perso Sì, perché L'ho mancato E non mi ha dato l'aria Quindi sì, ho perso No, 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 no La ottieni l'aria Se rimani lì per terra Però devi sbri- Devi sbri- Sbri- Oh my god Ho finito l'aria La, la La resistenza Fuck Ho preso la strada sbagliata Oh my god Ok Ce l'ho fatta a malapena Anch'io Penso che ancora un po' avrei perso Sempre che non si blocca in cima Quanto tempo? 2.14 2.04 Oh 10 secondi Sai che forse Ci ho messo meno Perché io ho avuto più Cazzin Quindi non contano per il Non lo so Non dobbiamo guardare il timer Penso Vabbè Vabbè Non importa Perché non penso che Hai finito 10 secondi dopo di me Un po' peccato che c'è lui Che rompe la tensione Sì esatto Come on Ok Il mio secondo è Lo diciamo o no? Sì sì Perché no Il mio è Gearame 2 Anche per me Fuck E se ce lo fa uguale? Perché in teoria abbiamo resettato la cosa Andandocene Allora Niente Ce l'abbiamo uguale Io spero di no Cose che capitano Oh come on Gearame Seriously Questa è una cosa più Orribile che potevi farmi Questi sono Cose che capitano Ah titano Fuck you Eh quando ti spara i cosi Dicesi Quella tipo Lughissima Sì Appunto Fuck you Ho sbagliato Sì Oh man Mi è perso dietro Mi è perso dietro Ho finito Io no A me ha usato due volte quella mosca Sto fucking assi Stavolta da me non l'ha fatto per fortuna Ma l'altra volta me l'ha fatto Ok ho finito ora Fuck you Gearame Sì ha usato due volte la mosca Due volte Fucking assi A me l'ha fatto tipo quattro volte prima Ok il mio terzo è Il recluso 1 Non so Non so da un certo Punto di vista è buono Se ci da gli stessi Però boh È un po' brutto anche Recluso 1 Here we go Questo è più bravo a zero Penso In realtà non so dirti Cioè ormai Ormai lo so fare Ma non so se sono Più bravo Oh potevo Potevo fare una super stretch Che non ho fatto Perché non sono scemo Spero che non sia la cosa Che ho fatto io Perché se no Io sono scemo Puoi saltargli sulla testa Durante la canzone Ah Di quando si rialza Non l'ho fatto Perché non sono scemo Perché non l'ho mai fatto Io ho provato Ma non Cioè Ho provato solo Volevo solo arrivargli Vicino ecco Con la cosa iniziale Perché chi si ferma Non so dov'è Non lo riesco a vedere Ti devi fermare Proprio lì Oh fuck L'ho fatto zero E gli sono atterrato in testa Con la cazza Però ti butta giù dopo Cioè devi atterrare Io penso Dopo che ruggisce Se vuoi avere una chance Però è stato divertente Da vedere Fuck Mi ha buttato giù Cioè ho mancato Mmm Quindi hai finito te già? No 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 Non preoccuparti Ok Io ho finito Io ho Finito Ma è testa a testa E like it Zero non sperarsi troppo Eh vabbè Ma comunque Se non ti avesse fatto Quelle cose Ghirahim Certo che Ha avuto tutta la cazza Per aggrapparsi Link Invece di farsi Buttare giù Eccellente battaglia Quarta Vediamo chi è La vera speedrun E chi riesce a fare il testo Prima Oh Ghirahim Anche per me Mene Uguale God damn it Zero questa la fa In tre secondi Tipo Eh sì Quindi It's over Non tre ma Comincia il distacco Fuck No Ho deciso di fare di nuovo La cosa delle Delle fucking lama Fuck you Ghirahim Ghirahim Seriously Fuck you Oh l'ho mancato Finito Sì a me A me ha fatto L'idiotico Ho finito adesso L'ha fatto due volte di nuovo Ma che fucking è So Odio Ghirahim Definitivo Oh no però Se fai nuovo record Ti dà tipo testo in più Oh yes Io non ho battuto il mio record God damn it Nice Fuck you let Numero 5 è Please l'altro recluso Occhio di fuoco Oh anche a me Sì È un set di Questo è il set Che ti danno di default Se Che ti danno di default Se Appena entri Nella Nella zona Credo Ho sbagliato in teoria No Non ho sbagliato Finito Wow Thank you Stavolta non contemporaneamente No Come la prima In realtà Tutti e due i video Sta giocando a zero Tipo in momenti diversi Io sto solo commentando Il suo altro video Gli ho dato quello vincente Dai come on L'ultimo punto Per l'ultimo Ok Ok Fuck Nuovo record Sì anch'io Fuck me Se qualcuno clicca su no per sbaglio Non penso Il prossimo è Loading Loading E il recluso No da me invece no Da me è ciclopo Quindi li varia da un po' Avevo detto che non l'avrei usato ma Sto facendo Adesso Oh shit Vabbè Vabbè Ecco adesso inizia a variare un po' Perché Diversi boss ci metti diversi tempi Tipo a me ciclopo ci metterò un sacco Mentre il recluso Penso che ci metterà un po' di meno Buoh Questo è il mio È il recluso che odio di più Zero Ah vabbè ma comunque io ciclopo ci ho messo 4 minuti Anch'io Ci abbiamo messo uguale non ti ricordi circa Sì 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 Tipo sempre 3 fasi Non riesco a farle in 2 Se è possibile non ci riesco Ciclopo La prima fase È possibile ma tipo devi usare bene la spada caricata Uh Due piccioni con una fava Mancate entrambi Allora è tipo Zero piccioni con tutte le fave Come ho già detto Si può Tagliare Più di un tentacolo Con la cosa È solo che io sono un hub E non riesco Cos'è i sacchi Sì il rettino zero Secondo fase C'è perso un sacco Oh my god, i barili! I love them! Link! Link! Sali! Sono caduto in acqua Perché Link non voleva salire Ah sì, è successo già anche a me Non mi è successo tipo la prima volta che... Oh come on! Che bello è stato... Oh my god Non voglio commentare questa parte Farò finta che non sia mai accaduta E andiamo avanti Flawless run! Sono saltato alla cieca ma comunque Mi aspettavo un po' più di precisione Flawless run Ah non l'apre proprio l'acqua Vabbè aspettiamo quando è finito Finito Ma eh, non ci ho messo troppo Questo zero lo farà in metà del mio tempo Ok, ciclopo è andato Oh no, ho battuto il record Di quattro secondi Fuck! Non ce l'ha ancora dato, eh Quello che non abbiamo visto No A meno che ho sbagliato i conti io No, ma dovrebbero essere dieci Te lo dice anche che sono dieci Meduclop Ho battuto il record Io ho battuto il record anche se ho fatto schifo Sì, non sarà la più precisa delle sfide Però vabbè, non importa Il prossimo per me è Oh, il scorpione Perché c'è il testo di mezzo Uh, recluso due Ritorno Delle abomineboli braccia Delle nevi Ok, vediamo se riesca Questa si può Potete tipo Schippare la prima fase Non so se riuscirò di nuovo Però si può fare Avanti Come Come L'abbiamo Stavo per mancarlo perché Link voleva fare gli affondi a quanto pare Però ci sono riuscito E lo scopo di colpirla la prima fase è che adesso Lui ciò che farà è salire con le braccia E ottieni un altro corpo praticamente gratuito Grazie a Tutorial by zero Anche se tipo è una sfida Ma tipo Durante le cazzi non so cosa fare A parte parlare Ehi, bad Vai, bad Mi domando se ci si mette di meno A tagliargli le braccia Mi ci ha messo un casino per la struzione Ho provato a tenerlo contro il muro ma non ha funzionato Bene Ultima andata Let's go recluso Ehi, io ci ho fatto tutti e tre reclusi I'm happy Ora che ci penso Sì, io sto facendo adesso l'ultimo Ah, voi Ui, vei Recluso Recluso Quando vuoi fermarti recluso Uh, me do clopper time Uso la batte pulta per essere sicuro Posso farlo senza Insomma You never know Bene No, ho battuto il record di un secondo Fuck me I suck Cioè, sono bravo Però that sucks E lì Il medoclop ha fatto schifo Poteva andare molto meglio Infatti non capisco come ho fatto a battere il record Devo dire che la prima volta ci ho messo ancora Fatto ancora più schifo Sì, voglio continuare Prossima battaglia all'ottava Non so, ancora deve darmi Ghirame numero uno Non so che non No, l'hai fatto Ghirame numero Te l'ho fatto Fuck Fuck Oh 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 Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Io mi sa che muoio zero. Non adesso, ma prima della fine di sto passo. Mi ha preso tipo tre volte il polvo. Non mi ha afferrato quei tentacoli, ma mi ha preso i danni, quindi non so. Vabbè, se muoio, ma non so. E la tensione. E' il trill della combina. Va tutto. Te sei all'ultimo, vero? No! Ma dove? E' il penultimo? Cioè, è il penultimo, giusto? No! Oh, forse? No, no! Sono al terzo ultimo. Ah, io sono adesso alla nona, quindi è il penultimo. Non so cosa mi darà adesso. Mi darà... Oh, yes! È l'ora delle cimitarre. Let's go! Ho finito Meduclop, eh. Ci ho messo un secondo in meno, anch'io. Oh, no! Ebbè, mal che vada, perdo contro Malgare. Ok. È obbligatorio che vada... Penso di sì. Non so se puoi uscire istantaneamente dal terreno. Ma non è la domanda che volevi fare. Malgare... Sì, sì, era quella la domanda. Chi cacchio è l'ultimo, allora? Beh, me lo direi tezzero. Sì, diventa immune dopo un certo punto di danno. Comunque adesso... Seconda fase. Chi è l'ultimo? È davvero quello di Narisha? Forse. Non mi viene in mente nessun altro. So che c'è una strategia super stupida contro Malgare. Dove... Usi le sue braccia per spaccargli lo scudo. E poi... Droppi le braccia o l'arma. E... Usi la scuola supera. E fai i danni. Ma non credo che riuscirò. Adesso... Oh no, niente. Sì, c'è una strategia per usare la spada suprema contro... Boh, non è super complicata in teoria. No, devi solo lasciare la spada. Perché la lasci cadere subito, no? Come fai B o cosa fa. Oh, come on, davvero gli zombie. Sì, il raggio della luce è data lì. Ma... E ci sono i cuori nelle colonne, se ti servono. Ho una pessima mira con... Con lo spadone. Lo so, ma il fatto è che scompaiono super in fretta. Ok, l'ho fatta la cosa e non è difficile da fare, in realtà. I cuori, no, non scompaiono super in fretta. Oh, come on, di nuovo. No, ma comunque i... Gli zombie di Malgare muoiono anche con un colpo della spada, eh. No. Sono regole speciali. Dammit. Sarei tentato di farmi colpire solo perché spreco un sacco di tempo, sta mosso. No, ma no. Perché non so chi è l'ultimo. Oh no, ho finito la stamina. Shit. Oh my god. Non l'ho ancora battuto. Quattro fasi? No, è perché se lo colpisci male con lo spadone si rialza comunque. Sì. Dei farlo tre... Se lo fai in modo perfetto, due volte lo devi fare. Se non lo fai in modo perfetto, devi farlo tre volte. No, io sono alla quarta, letto. Come la quarta? La quarta? Come la quarta? La quarta! Qual è la quarta fase? Non è quarta fase, è quarta di lui con le... Ah, ok. Quello. Sì. La quarta volta che fa il Shabadoon con le spade. Perché l'ho buttato a terra tipo tre volte già. Forse la spada suprema non è poi così tanto... Eh, forse no. Forse è più debole degli spadoni. Ok, vabbè, l'ho battuto. Ci ha messo un fracasso di minuto, ma l'ho battuto. Chi è l'ultimo? Beh, vedremo. Io devo... Sto per battere Malgare. E dopo... E dopo siamo lì tutti e due, in teoria. Battuto. Chi è l'ultimo? È lui? Se è lui, mi chiedo... Perché cacchio l'hanno lasciato per ultimo? Sì, appunto. È lui? Beh, adesso vediamo. No, abbiamo finito. Abbiamo finito? What? Ok. Oh, che bullshit. Bella sfida, Lethal. Damn it, per poco, quindi. Sì, per poco. Sì, ma dov'era c'è... What? Io ero tipo tutto in suspense, pensavo l'ultima battaglia sarà la battaglia del secolo. Invece no. Non c'è l'ultima battaglia. Beh, Malgare è tipo il più difficile, quindi va bene. I guess. Cos'è? Magari te lo sblocca solo... I don't know. Whatever. No, penso che sono nove e poi dieci, undici, dodici sono quelli esclusivi della eroica. Beh, we did it. Abbiamo finito. Non abbiamo ottenuto quello che pensavamo di fare, però beh, almeno abbiamo fatto... Alla fine era solo uno in più di quando abbiamo ottenuto lo scudo. Sì. Uno in più. Però beh, è stata bella. Tipo la miglior sfida, anche se l'ho persa. Fino alla fine. Fuck Ghireim. Beh, questo era l'ultimo episodio, guys. E noi adesso abbiamo tutto. Abbiamo tutti i cuori. Abbiamo lo scudo di Hylia. Abbiamo tutti gli oggetti potenziati al massimo. Abbiamo solo un ultimo obiettivo in mente. Spero. Manca solo una cosa. Fare il record al taglio del bambù. Yes! Let's go! Fare 43. No. Nel prossimo episodio di The Legend of Zelda Skyward Swords. Zero e Lethal taglieranno il bambù. Suona più figo con sta voce, vero? Bamboogeddon. Bamboogeddon. Bene, ci si vede nel prossimo episodio, guys. Bye bye, gente. Nell'ultimo episodio, no? Nell'ultimo episodio. Io non ci credo. Probabilmente mi verrà un Xus prima o qualcuno mi ha colpito da un femmine, ma... Perché ci siamo! So close. So close.